Il film Zack, Canero e il pubblico vincendo gli ascolti TV. La programmazione TV di mercoledì 25 gennaio, piuttosto variegata, ha permesso al pubblico italiano di scegliere tra varie proposte ed avere la meglio è stato il film Zack. Canero è trasmesso per la prima volta su Rai 1, che è stato visto da più di 3 milioni di persone. Un buon risultato, invece, anche per l'ora legale il film con Ficarra Epicon in onda su Canale 5. Che ha quasi eguagliato i risultati che la rete raccoglie con programmi di punta come il grande fratello VIP. Su Rai 3, invece, garanzia per il pubblico di Federica Sciarelli e chi l'ha visto che ha superato, seppur di poco, i 2 milioni di telespettatori, confermandosi una delle trasmissioni più seguite della terza rete. Non decolla, invece, la Porta Rossa, la fiction di Rai 2 arrivata alla sua terza stagione. Che ha come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, non raggiunge il milione e mezzo di telespettatori. Nella serata di ieri, mercoledì 25 gennaio 2023, su Rai 1 alla prima TV di Zack. Caneroe è stato visto da 3, 013, 000 spettatori arrivando al 15, 7%. Su Canale 5 l'ora legale è stata la scelta di 2, 428, 000 spettatori segnando il 13, 2% di share. Su Rai 2 la terza stagione della Porta Rossa è incollato davanti allo schermo 1, 264, 000 spettatori arrivando al 6, 7% di share. Su Italia 1 io vi troverò ha registrato 1, 488, 000 spettatori con il 7, 4% di share. Su Rai 3 chi l'ha visto ha catturato l'attenzione di 2, 098, 000 spettatori segnando uno share del 12, 1%, presentazione di 12 minuti, 1, 372, 000, 6, 3%, su Rai 3 4 controcorrente prima serata è stato visto da 622, 000 spettatori con il 4, 2% di share. Sulla 7 Atlantide speciale è stata la scelta di 455, 000 spettatori arrivando ad uno share del 2, 9%, su TV 8 ne indovina la canzone segna 419, 000 spettatori con il 3, 6% di share. Su 9 prima o poi mi sposo ha raccolto 444, 000 spettatori con il 2, 3%, De când aveam bol, de când nu știai ce în miscol, de când ascultam gangsta-rapper bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor la 0 grade viscol, nu tac nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari zintor, că știi că după-ți primit ciocan umane, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia-l treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos pătescu, jos ponta, sus cu rapul, ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, de când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul și, pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbință, ajungă la ea doar nasta cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda.